Si può costruire un deck partendo da zero in una fiera? Che TCG si potrà prendere in considerazione tenendo conto della disponibilità maggiore presente in questi eventi? E quale sarà la percentuale di completamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Tre giorni fa sono stato ospite della prima edizione del Il Soffio del Drago, la fiera del fumetto di Colleferro e prima della partenza nel mentre mi preparavo sono stato tartassato da un'idea che è rimasta subita per anni e alla quale non ho mai dato peso. E così iniziando a mettere le cose di necessità in borsa appena tutto pronto ho caricato ogni cosa in macchina e via verso la 24 direzione Roma. Durante il viaggio tutto tranquillo ma una volta arrivato a destinazione però quel tarlo è tornato a farmi visita come se volesse uscire fuori in attesa di fornire finalmente una risposta a tutti coloro che magari come me si sono sempre chiesti. Ma se volessi costruirmi un mazzo partendo da zero in una fiera del fumetto quante carte riuscirei a trovare? Quindi una volta davanti il mercato coperto di Colleferro sono finalmente entrato in fiera e ho trovato numerose postazioni dove si vendevano carte di ogni tipo, Digimon, collezionabili, Battle Spirit Saga, One Piece, Altered e i classici tre sempre presenti, Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Magic, con accessori vari comprensivi di album, tappetini, bustine protettive, penny sleeve, dadi, top loader, mini snap, case da 35 pt e molto altro che avrebbero accontentato ai consumatori di ogni fascia di età ed esigenza. Ora però c'era da farsi una domanda, quale gioco di carte avrei scelto per questo esperimento? La prima soluzione che mi è venuta in mente è stata Pokémon ma alla fine ho deciso di optare per Magic anche se Yu-Gi-Oh! mi ha solleticato la mente dato che per il Goat c'erano elementi molto interessanti come questo livello limite area B ad esempio. E a proposito di Goat, oltre al GCC dovevo tenere in considerazione anche la modalità di gioco, ma lì la scelta è stata piuttosto facile. Pauper senza ombra di dubbio. Terzo ed ultimo scoglio, l'archetipo da costruire. E perché non il Broadscale Combo, uno dei mazzi che ultimamente mi ha colpito grazie alla sua sinergia tra Eldrazi e supporti di diverso tipo presenti in lista? Quindi TCG scelto, formato, scelto e deck scelto, non mi restava altro da fare che partire alla ricerca delle carte. E devo dire non è andata poi male, alla fine della giornata, side da escludere per inteso, sono riuscito a recuperare la bellezza di 28 unità su 60, che è una percentuale molto buona se ci ragionate. Ci troviamo attorno al 47% arrotondando per eccesso. Ovviamente per concludere il deck dovrò agire sul mercato secondario, ad esempio CarTrader, troverete a proposito il mio personale codice sconto del 5% sul carrello in descrizione, recuperando tutto quello che mancherà così da poter utilizzare il Broadscale in match amichevoli o da torneo. Ok Arconte, e la profile del deck qual è nello specifico? La troverete a partire dal 1 novembre nel secondo numero della Gazzetta del Crogiolo, la rivista dedicata ai trading car game esclusiva per gli abbonati al canale. Ora, prima di concludere, prendiamo in considerazione qualche punto importante. Sono stato fortunato ad aver avuto la possibilità di reperire un numero così alto di carte, spendendo attorno alla decina di euro in totale. Non me lo sarei mai aspettato neanche nelle previsioni più rosee. Ovviamente il Pauper è un formato molto giocato, certo, ma che possiede carte di basso valore. E di solito, a meno che non si tratti di terre artefatto come la Fornace, ad esempio, o qualche altra staple che si gioca ovunque, difficilmente si riesce a reperire un qualcosa di mirato che magari è stato stampato una o due volte in tutta la storia trentennale del primo GCC al mondo. Naturalmente, per altri titoli come Pokémon, ad esempio, magari la situazione risulterebbe più facile da approcciare, avendo molte più risposte in standard rispetto a formati come lo stesso Pauper, ad esempio, che rappresenta solo un aspetto della multisfaccettatura di Magic. Quindi concludendo, il consiglio che posso fornirvi data questa esperienza è che se vorrete costruirvi un deck partendo da zero, non sperate di completarlo. Magari riuscirete nell'intento, ma approcciate la fiera dove andrete come un buon punto di partenza per iniziare a raccogliere qualche carta prima di operare attraverso i siti dedicati specializzati nel settore. Magari questa serie di blog potrà essere l'inizio di un nuovo formato, chissà. E voi, avete mai provato a costruire un deck partendo da zero, rivolgendovi ai venditori presenti in fiera? E com'è andata? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stato in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.